Sono in Liguria perché ho ripreso gli Asparitur in giro per l'Italia, ma voglio mandare un messaggio alla Torre Girone, i nostri Marò, con i quali siamo stati solidali sempre. Anni fa sono stato fino a New Delhi, quando erano lì trattenuti ingiustamente, per esprimere la solidarietà dell'Italia e del Parlamento ai nostri due militari. Oggi la giustizia internazionale riafferma la competenza dell'Italia, un primo passo perché altri ce ne dovranno essere. Ci prendevano in giro quando difendevamo i Marò, quelli di sinistra che disprezzano i militari, le divise e che insultavano i nostri Marò. Ora hanno avuto ragione, questo premia anche l'azione di coerenza e di tenacia che molti di noi hanno intrapreso a loro difesa. Voglio mandargli un messaggio di rinnovata amicizia e di orgoglio per aver scelto la parte giusta, quella delle divise che in Italia e nel mondo difendono l'Italia e i diritti di tutti quanti noi. Grazie a Marò e andiamo avanti con loro.